Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. C'è un verso in Ezechiele 18, 25. Voi dite la via del Signore non è retta. Alleggiamo questo verso. Viviamo in un contesto dove c'è di tutto e di più. Ma voi dite la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, Casa di Israele, ascolta dunque Chiesa di Gesù Cristo. È proprio la mia via quella che non è retta. Non sono piuttosto le vostre vie quelle che non sono rette? Viviamo in un contesto storico che veramente è degradante sotto questo aspetto. La gente non vuole sapere niente di Dio, si allontana da Dio, chi professa di essere ateo, chi professa di non credere, chi professa di essere agnostico, chi non si interessa proprio. Poi quando succede qualcosa, si dice, ma Dio dov'è? Ma dove l'abbiamo lasciato noi? Dove l'abbiamo messo? Che posto gli abbiamo dato? Quante scelte facciamo sbagliate? E poi diciamo, guarda Dio che mi ha combinato. Si dice che un credente una volta fece un sogno e sognò che camminava in un sentiero e arrivò a una parte e trovò un ragazzo seduto su un sasso che piangeva e disse, scusa, perché piangi? Ma tu chi sei? Disse quel ragazzo giovane, io sono il diavolo. E perché piangi? Io pianco perché tutti sbagliano e se la prendono con me e dico, è il diavolo qua, è il diavolo là, è il diavolo lì. Certe cose le faccio veramente, ma tante non ne so niente e mi danno la colpa a me. E poi ci sono altri, come vediamo qui, che danno la colpa a Dio. Preferisco leggere questi passi per farci vedere come Dio conosce i nostri cuori e dice quello che noi facciamo nel contesto di questo tempo. leggiamo insieme dal 25 al verso 32. Leggiamolo e così ci troviamo proprio nel recinto dove stiamo vivendo noi adesso in questo tempo. Guarda un po'. Voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, noi che siamo insieme, è proprio la mia via quella che non è retta? Dice il Signore. Non sono piuttosto le vostre vie quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'embio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se è a cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ecco, le cose stanno così. Ma invece molti dicono la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette? Non sono piuttosto le vostre quelle che non sono rette? E' un colloquio che fa Dio attraverso il profeta. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, dice il Signore. Dio, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire? Io, infatti, non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore. Qui parla spiritualmente. Dio, convertitevi dunque e vivete. Viviamo in un contesto che è proprio così. Spesso troviamo nella parola di Dio chi per giustificare se stesso trova sempre una via di uscita per non affrontare con serietà o per prendersi la propria responsabilità. Un dottore della legge che poteva essere un avvocato con Gesù per evitare di affrontare la situazione quando Gesù parlava in Luca 10, 29 dice così Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù E chi è il mio prossimo? Certo, questa è proprio una presa in giro. un avvocato, un dottore della legge Quando Gesù gli dice che deve fare per ricevere la vita eterna lui dice c'era la parola prossimo lui, dottore della legge dice chi è il mio prossimo? Il mio prossimo è quello più vicino a noi che si trova nel bisogno non è quello a centomila chilometri da noi il prossimo è quello che possiamo toccare che possiamo aiutare che possiamo intervenire che possiamo offrirgli qualcosa che possiamo dargli una mano Dottore della legge Dice chi è il mio prossimo? Si capisce che è questo non aveva nessuna intenzione di seguire Gesù cercava soltanto di passare un po' di tempo e poi andarsene senza voler cambiare nulla della sua vita infatti Gesù compose una parabola per spiegare questa categoria ma spesse volte questa categoria sono io sei tu noi dobbiamo imparare ad essere leali se sbagliamo abbiamo sbagliato ma non ce la prendiamo pure con Dio Signore aiutaci questa sera veramente e chi è il mio prossimo anziché riconoscere il proprio errore il proprio peccato secondo me Dio sbaglia dicono così e ancora sentiamo in questo tempo perché Dio Dio doveva fare così Dio doveva fare cosa Dio doveva fare li senti tutti i giorni queste parole in giro ma perché Dio doveva fare così ma perché Dio ha fatto così succede una cosa ma perché Dio hai fatto così Signore aiutaci stasera viviamo proprio in un contesto così secondo me sbaglia Dio e così questo principio si allarga e tutto il popolo dice secondo me Dio doveva fare così leggiamo nel verso 29 si persevera con questa mentalità senza voler cambiare se c'è una sola ma la casa di Israele dice la via del Signore non è retta sono proprio le mie vie quelle che non sono rette non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette ora se c'è una sola verità o un solo punto che veramente è funzionante noi dobbiamo cambiare noi verso quel punto se la verità è una non possono essere due se Dio è la verità se la sua parola è verità se Gesù Cristo è verità tutto quello che noi facciamo pensiamo diciamo che non è conforme a quello che dice Lui abbiamo ragione noi e la nostra verità non quella di Dio ma noi dobbiamo convogliare la nostra verso quella di Dio perché quella di Dio è verità la nostra è una nostra idea è un nostro modo di pensare e secondo le circostanze secondo come ci troviamo Signore aiutaci stasera in Ezechiele 33 17 parla dello stesso argomento perché il corrotto così vive addirittura lo storto dice in cuor suo tanto per abbreviare non c'è Dio però i figli del tuo popolo dicono la via del Signore non è ben regolata ma è la via loro che non è ben regolata Signore aiutaci molti incolpano Dio già che se ne parla è buono le calamità che si abbattono nella loro vita non vogliono ammettere che molte volte il risultato delle loro scelte dei propri errori tanti se la prendono con il diavolo e in parte è vero che il diavolo fa le sue cose come ho detto prima altri se la prendono con Dio ma non è così Dio ha tutt'altro per la mente Dio desidera che ci sia un cambiamento nella nostra vita nel verso 26 del capitolo 18 dice così se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette le iniquità e per questo muore muore per le iniquità che ha commessa se uno vive questo è un ragionamento logico se uno vive mille giorni e non prende veleno vive se il millesimo mille un giorno mille unesimo giorno ingerisce veleno e muore perché ha preso il veleno Signore aiutaci se uno vive mille giorni senza ingerire veleno e il mille unesimo giorno lo prende cosa succede muore però questo verso si divide in due parti leggiamolo un'altra volta però se al posto di continuare così noi cominciamo a fare diversamente vuol dire che viviamo se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità è per questo che muore muore per la sua iniquità ma nel 27 dice però se uno smette di vivere ingiustamente se l'impio si allontana dall'impietà che commetteva e comincia a praticare l'equità e la giustizia rimarrà in vita questo è il più grande miracolo che Dio vuole fare nella nostra vita nel momento che noi decidiamo di voler cambiare il Signore è pronto a correre per riempirci della sua presenza del suo amore alleluia vedi è importante distinguere come Dio pensa lui vuole che se noi ci spostiamo verso di lui rileggiamo questo verso perché mi piace mi piace mi piace questo è il più grande miracolo che il Signore vuole fare se l'impio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità Signore aiutaci e la giustizia rimarrà in vita questo è il più grande miracolo lo stesso profeta nel capitolo 36 verso 25 dice che comincia una ristrutturazione della nostra vita Dio dice vi aspergerò di acqua pura e sarete puri io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli bellissimo questo vi aspergerò d'acqua pura il Signore ti lava da ogni iniquità ricevi Cristo come tuo salvatore personalmente mette in te uno spirito nuovo e tutto cambia nel momento che noi ci apriamo lui comincia ad operare nella nostra vita e fa una trasformazione radicale della nostra vita leggiamo come continua nel verso 26 Signore aiutaci sei grande Gesù ti vogliamo benedire metterò dentro di voi il mio spirito qui è la S maiuscola mette dentro di noi lo spirito santo e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni sei grande Signore qui parla della nuova nascita che anche se sei un maestro di religione come Nicodemo la nuova nascita ti fa vedere le cose del regno di Dio si cominciano ad aprire i tuoi occhi Gesù dice proprio questo in Giovanni capitolo 3 verso 3 Signore tu sei grande stasera il Signore vuole fare un'opera dentro di te la verità di Dio è questa che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio puoi essere anche un maestro di religione hai bisogno di nascere di nuovo c'è bisogno di una rinascita spirituale lui ti lava come abbiamo letto fa un'operazione di ristrutturazione abbiamo letto il verso 25 che dice in Ezechiele dove eravamo prima vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri io vi purificherò di tutte le vostre iniquità di tutti i vostri idoli tutte le affezioni che abbiamo verso cose visibili e non visibili che hanno preso radice nel nostro cuore e puoi entrare anche se muori adesso nel regno dei cieli nel verso 5 del capitolo 3 Giovanni capitolo 3 verso 5 dice che possiamo entrare nel regno dei cieli immediatamente in verità in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio alleluia nel regno di Dio questo è il primo passo per vedere questo risultato abbiamo bisogno come dice nel Salmo 51 7 di fare la nostra parte e Dio fa la sua ascolta cosa dice Salmo 51 7 Gloria sia resa a Dio benedetto sia il Signore purificami con isso e sarò puro lavami e sarò bianco più bianco della neve alleluia e il secondo passo lo fa Dio leggiamo il verso 10 Signore aiutaci stasera oh Dio crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben salvo e ti dà un cuore nuovo fa una vera e propria sostituzione come quando arriva un motore di una macchina imballato su una pedana lo tiri e lo metti sotto e cammini hai la macchina con il motore nuovo come quando prendi un hard disk nuovo lo prendi e lo metti con nuovi programmi nel computer il vecchio hard disk non c'è più e il nuovo sviluppa i programmi nuovi che ci sono dentro così è la nostra vita Dio vuole fare questo dentro di te se tu apri il suo cuore a lui nel verso 26 del capitolo 36 di Ezechiele dice così leggiamolo insieme metterò dentro di voi il mio spirito parliamo dello spirito santo Dio stesso che viene a dimorare dentro di noi e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi usciamo da quello che abbiamo letto prima cominciamo a convogliare la nostra attenzione verso Dio perché quando noi lasciamo il mondo che dice Dio qua Dio là no quando noi ci dirigiamo verso Dio lui comincia ad agire nella nostra vita rileggiamo questo verso e lo vuole fare stasera nella tua vita metterò dentro di te il mio spirito e farai modo che cammini secondo le mie leggi e osservi e osservi e metti in pratica le sue prescrizioni lo spirito lo spirito lo spirito lo spirito ti dà la forza di poterlo fare uno spirito un cuore nuovo una volontà nuova è il suo santo spirito che dice questo metterò dentro di voi il mio spirito e farò continuiamo a leggerlo per cortesia e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni e diventi il tempio dello spirito santo in primo corinzi mi piace primo corinzi 3.16 diventiamo i portatori nella presenza dello spirito santo nella nostra vita diventiamo i contenitori diventiamo l'arca di dio diventiamo il tabernacolo di dio non sapete che siete il tempio di dio e che lo spirito santo di dio abita in voi bellissimo questa trasformazione la fa il signore stasera stessa esci fuori dalla mischia rivolgiti al signore e digli col cuore signore proprio questo ho bisogno stasera signore ti confesso questo ho bisogno signore stasera ho bisogno che tu fai proprio questa opera nella mia vita che tu togli completamente tutte quelle frattaglie che non riesco a toglierle dalla testa che mi turbano e che ho bisogno di un cuore nuovo l'ultimo verso del capitolo 18 che abbiamo letto il verso 32 c'è un grande messaggio per te leggiamolo insieme no l'ultimo verso del capitolo 18 di Ezechiele verso 32 Ezechiele 18 32 gloria sia resa a Dio perché Dio è grande benedetto sia il signore alleluia infatti Dio non prova nessun piacere per la tua morte per la morte di colui che muore spiritualmente muore per l'eternità dice il signore Dio convertiti dunque e vivi signore aiutaci una vera conversione porta nuova vita tutte le altre cose non funzionano se vuoi vivere come prima non cambia nulla se non decidi invocare il signore che ti aiuti c'è una bellissima parabola che Gesù ha composto che è la parabola dove presenta Dio e noi come suoi figli il figlio prodiga ho sentito parlare c'è un passo molto importante è un passo obbligatorio che noi dobbiamo fare leggiamolo insieme in Luca 15 verso 20 egli dunque si alzò qui parla del figlio parla di te parla di me e tornò da suo padre ma mentre egli era ancora lontano bellissimo questo suo padre lo vide e ne ebbe compassione corse gli si gettò al collo e lo baciò signore aiutaci questa sera alleluia stasera è la serata per te dove ti trovi c'è una scena che si presenta alla mia mente di un fatto analogo successo molti anni fa un ragazzo si spostò da casa sua si allontanò quello che aveva lo sprecò tutto viveva male non sapeva più come vivere come tanti vivono adesso non sapeva cosa fare aveva creato un grande dispiacere al padre che se n'era andato perché stava bene nella sua azienda era trattato bene erano proprietari un giorno decise e disse io vorrei tornare da mio padre però non so se mi accoglio o non mi accoglie che devo fare come faccio a saperlo può darsi che faccio un viaggio fino lì torno e mi caccia fuori di casa che devo fare scrisse al padre e disse papà io voglio tornare però non so se tu mi accogli o non mi accogli facciamo una cosa papà se tu mi accogli avevano la casa vicino alla ferrovia i treni allora camminavano lentamente diceva papà facciamo una cosa io per sapere se tu mi accogli o non mi accogli metti un lenzuolo bianco sopra le spine che fiancheggiano la ferrovia perché perché se io vedo il lenzuolo so che tu mi accetti stava per arrivare e non aveva il coraggio di affacciarsi al finestrino perché diceva se papà non ha messo un lenzuolo bianco sulla siepe che fiancheggia la ferrovia io non scendo alla stazione disse a un suo coviaggiatore mi vuoi fare la cortesia affacciati al finestrino se c'è un lenzuolo bianco a fianco alla ferrovia perché lui non aveva il coraggio di guardare con la paura che non ci fosse stato perché lui vedeva che se il padre non lo avesse accettato lui proseguiva il viaggio ma era un viaggio per la fine della sua vita allora così mentre stava seduto disse al suo vicino per piacere guarda se c'è un lenzuolo bianco questo giovane guardò e c'era tutta la siepe dieci quindici lenzuoli bianchi disse al suo compagno viaggiatore amico tutta la siepe ci sono dieci quindici lenzuoli bianchi al che lui si fece animo e disse signore grazie che mio padre mi accetta e così si tornò e abbracciò leggiamo questo verso il verso 20 un'altra volta il signore vuole fare con te stasera e gli dunque si alzò e tornò da suo padre torna al signore stasera ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e nebbe compassione corse gli si gettò al cole e lo baciò Dio spiritualmente parlando questa sera si sta buttando verso di te la brama e la gioia del padre che corre per abbracciarti e fare festa Dio non è contento nella condizione che tu vivi lui ti vuole dare di più ti vuole rinnovare ti vuole dare uno spirito nuovo una vita nuova un rinnovamento spirituale che solo lui può fare se tu col cuore dici signore è proprio di questo che ho bisogno leggiamo il verso 22 che questo rispecchia il cielo rispecchia Dio questa parabola ma il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella e rivestitelo mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi per la tua decisione stasera Gesù dice che si fa festa nel cielo ma la festa comincia anche nel tuo cuore perché lo spirito santo inietta una speranza nuova una vita nuova come abbiamo letto io vi darò uno spirito nuovo vi darò un cuore nuovo leggiamo il verso 7 Gesù dice così a Dio sia la gloria vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede e per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento nel verso 10 continua il signore perché questa è una scena meravigliosa che questa sera per lo spirito santo mentre tu apri il tuo cuore a Dio egli compie un'opera potente dentro di te così vi dico vi gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede per uno come te sì sì maschio femmina che tu sia stasera il signore vuole fare festa con te lo spirito santo opererà in un modo potente mentre tu apri il tuo cuore a lui c'è festa in te che sei diventato o sei diventata il suo tempio abbiamo già letto in primo corizzi 3.16 lo spirito santo ti avvolge confluisce verso di te ti riempie perché aspetta proprio la tua apertura leggiamolo insieme gloria sia resa a Dio primo corizzi 3.16 gloria a Dio alleluia non sai che tu sei il tempio di Dio e che lo spirito di Dio dimora in te tu senti subito la calma della pace di Dio che ti riempie senti come una gioia dentro di te al pensiero che Dio sta operando la tua salvezza mentre tu sei così aperto a Lui mentre sei aperto a Lui perché mentre ascolti la parola lo spirito santo ha fatto scendere in te il suo santo sigillo leggiamo in come come succede questo come Dio lo fa mentre ascolti la parola lo spirito santo mette il suo sigillo quando tu ti apri il cuore quando dici Signore ho bisogno di te in Efesini 1.13 dice così gloria sia resa a Dio in Lui voi pure dopo aver ascoltato la parola di verità della verità il Vangelo della vostra salvezza tu stai ascoltando il Vangelo questa sera mentre ascolti mentre apri il cuore credendo in quello che il Vangelo ti sta dicendo ricevi il sigillo dello Spirito Santo che il Signore ti ha promesso alleluia che sei suo adesso sei sua adesso e il Signore lo ripete due volte nella sua parola che noi siamo il tempio dello Spirito Santo in primo Corinzi 6.19 lo dice un'altra volta perché Dio non vive in tempi di mano d'uomo ma vive nel cuore dico lei dico lui che si apre a Dio non sai che il vostro corpo che il tuo tempo il tuo corpo è diventato il tempio dello Spirito Santo che è in te in questo momento che sta operando per il tuo bene ti fa sentire la dolcezza della sua presenza quindi adesso sei del Signore non appartieni più a te stessa sei il suo sigillo ti ha fatto diventare erede di Dio ecco erede di Cristo e cominci a camminare con Lui alleluia gloria al Signore egli cambia e continuerà a cambiare il tuo cuore lo rivoluzionerà non ti farà parlare più come prima ma ti farà parlare in un modo diverso quando noi siamo aperti a Dio vuol dire che noi gli permettiamo di operare Lui è il grande chirurgo Lui sa dove mettere le mani Lui ci ha creato anima spirito e corpo e Lui sa dove deve toccare dove sta toccando nella tua vita per portare una guarigione completa della mente dell'anima dello spirito e del corpo perché gli sta inserendo il nuovo programma il suo programma che con l'aiuto dello spirito santo tu camminerai insieme con Lui alleluia continuiamo a cercare Dio che cambi il nostro cuore proprio man mano che camminiamo con Lui preghiamo insieme prega insieme con me Signore ti presento in un modo speciale la sorella il fratello l'amico l'amica che in questa sera sì mentre la tua parola così ravvivata dallo spirito santo trasferisce il tuo pensiero nel suo pensiero nel suo cuore e diventa un tutt'uno spirito santo di Dio porta un rinnovamento straordinario nella sua vita che da questo momento possa vedere come un nuovo giorno un'alba nuova che si apre davanti a lei un'alba nuova che si apre davanti a Lui per iniziare un cammino insieme con te alleluia gloria a te Signore sapendo che tu sei colui che sei sempre con lei sempre con lui che la tua benedizione si posi con ognuno che cerca la tua presenza che invoca il tuo nome e che desidera camminare in tua presenza Spirito Santo di Dio spandi la tua benedizione su tutti coloro che abbiamo ascoltato la tua parola perché essa presto tardi porterà frutto per la tua gloria alimenta ciò che di tuo in ogni cuore sviluppa questa vita nuova in ognuno che ascolta la tua parola che ha ascoltato e che continua ad ascoltare e dovunque arriva questo messaggio possa essere accompagnato dalla presenza del tuo santo Spirito che la vibrazione della tua presenza accompagni la tua parola con la tua onnipotenza per operare e portare salvezza guarigione divina liberazione unzione di Spirito Santo per la gloria di Gesù Cristo te lo chiediamo insieme benedici Signore tutti coloro che hanno ascoltato e ascoltano questo messaggio e dovunque arriva possa operare nel cuore di quanti sono alla ricerca della verità perché tu sei la verità Gesù a te Padre Dio Onnipotente Figlio e Spirito Santo diamo lode onore gloria alleluia 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 amén 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 hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org